Tanti minuti in più da mettere nelle gambe perché gli appuntamenti importanti si avvicinano. Sì, si avvicinano, mancano due settimane e stiamo mettendo minuti nelle gambe, non solo nelle amichevoli in verità. Anche tutti gli allenamenti che li facciamo belli duri, ne stiamo mettendo perché tra due settimane saremo pronti. Un quasi completo turnover oggi, come hai visto le ragazze? Sì, per noi, lo sanno, non esiste il turnover, è una formazione diversa rispetto a quella di Cesena, rispetto a quella col Bologna. Stiamo andando avanti, le stiamo facendo lavorare tutte, stiamo provando tutte e tante soluzioni e quindi su questo sono molto contento perché tutte stanno dando giusto contributo a livello soprattutto mentale. Le avversari di volta in volta aumentano di caratura, quindi aumenta anche l'impegno che bisogna mettere nei 90 e passa a minuti. Sì, sta aumentando, ma anche se con Bologna e Cesena abbiamo affrontato squadre valide, ci hanno messo anche sotto, ma siamo stati bravi a reagire, a controllare nei momenti giusti la partita. E anche oggi devo dire che si è alzato dal nuovo livello perché pari categoria, ma siamo riusciti a mantenere sia un buon livello di mentalità che di intensità, che è la cosa più importante. Prossimo appuntamento? Andiamo a Pavia sabato contro la Sampdoria, siamo ad un altro appuntamento difficile almeno quanto quello di oggi, ancora per mettere minuti, intensità, mentalità, tanto lavoro che stiamo facendo e continuiamo questa settimana. Grazie. Grazie.